Inutile girarci tanto intorno, dai. Quando Apple ha estratto dal cilindro le sue nuove Airpods, tutti abbiamo pensato che fossero sostanzialmente delle Airpods Pro senza gommini ma con design open fit. Piccolo spoiler, non ci siamo andati molto lontano, anzi, mettetevi comodi che vi racconto tutto per filo e per segno. Ebbene sì, non ci vuole un genio e nemmeno una laurea in design del prodotto per notare le somiglianze tra le Airpods Pro e queste nuove Airpods di terza generazione. Andiamo però con ordine. Dentro la scatola trovate la solita manualistica, le Airpods nella loro custodia di ricarica e un cavo USB-C Lightning utile per caricare la custodia delle cuffiette se non avete a disposizione un caricatore MagSafe. Il minimo è indispensabile, insomma, ma diciamo che questa è l'attuazione della grande maggioranza delle cuffie True Wireless, quindi non possiamo certo lamentarci. Detto ciò, il design del case cambia leggermente nelle proporzioni rispetto a quello delle vecchie Airpods, ma anche rispetto a quello del modello Pro. Resta quindi un parallelepipedo con gli angoli smussati, ma ora misura 54 mm di larghezza, 46 mm di altezza e 21 mm di spessore, per un peso di 38 grammi circa, che diventano poco più di 46 se consideriamo anche le cuffiette inserite all'interno. Complessivamente quindi i peso e ingombro sono inferiori rispetto al case delle Pro, anche se qui abbiamo in più la certificazione IPX4, che attesta l'impermeabilità della custodia oltre che delle cuffie. Anche le singole auricolari sono più leggere rispetto alle Airpods Pro. Parliamo di oltre un grammo di differenza, che non è molto, ma se indossate per molte ore potrebbe comunque fare la differenza. Esteticamente sono invece praticamente identiche, fatta eccezione appunto per il design open fit. In sostanza è come se Apple avesse attaccato lo stelo delle Airpods Pro all'auricolare delle Airpods. Piccole e leggere quindi, ma come vestono? Bene, o almeno nel mio caso bene. Non sono mai stato un amante delle cuffiette Nier, tranne pochi casi isolati. Quindi, diciamo che dopo alcuni minuti comincio a sentire fastidio, quindi devo toglierle per qualche secondo per far riposare l'orecchio. Cosa che invece non accade con queste Airpods. Ho provato a indossarle anche per diverse ore consecutivamente e non ho mai sentito il bisogno di toglierle. Anzi, a un certo punto quasi mi sono scordato di averle addosso. Ho provato anche a correre indossandole e non ho avuto particolari problemi di stabilità, oltre al fatto che essendo certificate IPX4 non si avranno problemi né col sudore né con eventuali gocce di pioggia. Si tratta comunque di un giudizio soggettivo. Sappiamo bene come anche la prima generazione di Airpods si adattassero perfettamente all'orecchio di alcuni utenti, mentre fossero, diciamo, praticamente impossibili da indossare per altri. Il consiglio quindi, se potete, è quello di provarle, eventualmente, prima di acquistarle. Ed eccoci a quella che è forse la domanda più interessante. Come suonano queste nuove Airpods di terza generazione? Presto detto, meglio delle Airpods di seconda generazione, ma un pochino meno bene delle Airpods Pro. La differenza rispetto a quest'ultime è dovuta però fondamentalmente al design OpenFit, che non permette di isolare dall'ambiente esterno con la stessa efficacia dei modelli in Air. Nulla di così compromettente comunque, anzi, restano probabilmente le migliori OpenFit per qualità audio. Merito anche dei nuovi driver da 11mm, che sono più piccoli per circonferenza rispetto a quelli delle precedenti Airpods, ma sono stati riprogettati per avere una maggiore escursione e muovere quindi più aria, creando maggiore compressione e avere così dei bassi un pochino più presenti. Bassi che comunque non raggiungono per presenza e profondità il livello del modello Pro, così come restano abbastanza lontani dalle Sony VH1000XM4, che sono considerate un po' da tutti come il riferimento in termini di qualità audio. Per darvi un'idea più concreta, il synth pop di Sweet Dreams è reso alla grande, molto meglio di quanto potremmo ottenere con la precedente generazione di Airpods, così come suona ottimamente anche l'indie pop di Should Have Known Better di Sufian Stevens. Al contrario, l'hip hop di Jay-Z in Big Pimpin soffre sicuramente un po' questi bassi poco profondi, che vengono messi in secondo piano in alcune occasioni dalle frequenze medie e alte, che si sentono molto di più. Come sul modello Pro non manca poi l'Adaptive AQ, ovvero un equalizzatore adattivo che, basandosi sul suono captato da un piccolo microfono presente all'interno dell'auricolare, regola le frequenze permettendoci di ottenere sempre la migliore esperienza audio possibile. Parlando invece di audio in chiamata, posso dirvi che la qualità in ingresso è ottima, proprio grazie alla buonissima capacità di riprodurre le frequenze medie e alte, notoriamente le più utili quando abbiamo a che fare con la voce. Come anticipato, non abbiamo la cancellazione del rumor attiva, che troviamo invece sulle AirPods Pro. Non è un problema enorme, visto il comunque ottimo volume di riproduzione. Certo, in ambienti molto rumorosi può capitare di essere distratti dalla confusione esterna, ma diciamo che non vi capiterà mai di non riuscire a sentire davvero il vostro interlocutore. Il vero punto di forza di queste AirPods sono però sicuramente i microfoni. La resa in chiamata è di livello molto alto, forse anche migliore rispetto alle AirPods Pro. Il merito è sicuramente del lavoro di pulizia fatto dagli algoritmi, dal chip H1 e dal nuovo codec AAC e LD, ma anche dalla nuova trama del rivestimento dei microfoni, che è studiata appositamente per rompere meglio il vento, o comunque l'aria, e ridurne quindi al minimo il disturbo. Il risultato è ottimo, probabilmente ai vertici della categoria. Il timbro è sempre fedele, la voce arriva nitida e cristallina a chi sta ascoltando in praticamente ogni situazione. Ciao Matteo, come mi senti? Ciao Davide, ti sento direi bene, leggermente forse metallico, ma la voce è pulita. Diciamo, non sento nulla del rumore di fondo. Queste che sto usando sono le AirPods Pro, quindi quelle in teoria più belle, quelle che costano di più, che sono di Roberto e le abbiamo rubate. Ora attacco e ti richiamo con le AirPods invece di terza generazione. Benissimo, perfetto. Vai, a tra poco. Queste invece sono le AirPods di terza generazione, quelle nuove, che hanno un nuovo filtro per il vento, una nuova mesh sul microfono. Dimmi se mi senti meglio o peggio. Allora, ti sento leggermente meno profondo, ma il volume è più alto, quindi sento proprio meglio la tua voce, meno vattata, diciamo così. Quindi un pochino più nitida. È un pochino più nitida, forse meno bella la voce, cioè leggermente più costruita, perché forse è un pochino più metallica e meno naturale rispetto alle altre, quindi leggermente meno profonda, però il volume è più alto e in generale devo dire che ti sento meglio. Io, ecco, preferirei questa, perché è molto chiara il suono. Esatto. Infatti dovrebbe avere un nuovo codec apposta per l'audio HD in chiamata. Ok. Dovrebbe essere più chiaro. Sì, sì, assolutamente chiarissimo. Tra l'altro anche il filtro rumore funziona bene, perché non riesco a rendermi conto di dove siete, quindi non sento assolutamente nulla di sottofondo. Ottimo. Dai, va bene, ci vediamo in ufficio. Ok, ciao, ciao. E chiudo il capitolo legato alla qualità audio parlandovi poi dell'audio spaziale, o special audio, come lo chiama Apple. Di cosa si tratta? Non è così semplice da spiegare, ma per semplificare posso dirvi che la sensazione è quella di avere un suono un pochino più avvolgente, anche un pochino più distante dall'ascoltatore, e direzionale. Sì, avete capito bene. Se attivate la modalità di tracking della testa, infatti, muovendovi all'interno della stanza o anche solo ruotando un pochino la testa, l'audio sembra passare da un orecchio all'altro, sempre in direzione della sorgente. Un effetto carino, immersivo, ma non è sicuramente il motivo per cui acquisterei queste AirPods al posto di una delle decine di alternative presenti sul mercato. Come sulle AirPods Pro, abbiamo poi i controlli touch, attivabili pizzicando gli steli delle cuffie. Una singola strizzata, diciamo così, consente di avviare e mettere in pausa la riproduzione di un brano. La doppia pressione, invece, passa al brano successivo, mentre tre tocchi consecutivi ci permettono di tornare al brano precedente. Tenendo premuto, invece, per un paio di secondi, si attiva Siri, che può essere richiamato anche con il classico comando e in Siri. La connessione allo smartphone o a qualsiasi altro dispositivo avviene tramite Bluetooth 5.0, è sempre stabile e in assenza di ostacoli ci permette di allontanarci fino a 10-15 metri circa dalla sorgenza senza interruzioni. Ma veniamo a parlare di autonomia. Apple dichiara 6 ore di utilizzo in riproduzione e 4 in conversazione. Diciamo che non si spacca il secondo, ok, ma effettivamente ci si va molto molto vicino. In soldoni parliamo quindi di quasi un'ora in più rispetto alle vecchie AirPods, ma anche rispetto al modello Pro. La custodia poi consente di aggiungere a queste 6 o 4 ore altre 20-25 ore di autonomia, con una ricarica rapida che in 5 minuti garantisce più o meno un'ora di ascolto. Custodia che si ricarica con il cavo, purtroppo ancora Lightning, la smetterete con questa cosa, oppure tramite MagSafe con un tappetino compatibile. Non funziona invece la ricarica inversa da iPhone. Ed eccoci al momento di tirare le somme partendo come al solito dal posizionamento. Queste nuove AirPods di terza generazione costano 199€, un prezzo che va un pochino a scontrarsi con lo street price delle Pro, che sono ormai costantemente disponibili intorno ai 200€. Rispetto a quest'ultime non abbiamo la cancellazione attiva del rumore, ma abbiamo una migliore autonomia, dimensioni e peso inferiori e la custodia impermeabile. Insomma, per come la vedo io, quindi in attesa che cali il prezzo, la scelta si riduce a una questione di comfort legato al four-factor. Open fit contro in-ear. Scegliete quello che vi sta più comodo e accattatevillo. Se questo vi è piaciuto mi raccomando lascia un bel like qui sotto, sempre qui sotto nei commenti scrivimi un po' cosa ne pensi di queste AirPods di terza generazione, se magari le hai già comprate oppure se stai pensando di acquistarle. e ovviamente iscriviti al canale e attiva le notifiche per restare sempre aggiornato su ogni video che pubblichiamo. Un saluto e alla prossima. Ciao!